Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale La serie di GTA è uno dei franchise più popolari al mondo e il suo quinto capitolo è il secondo gioco più venduto di sempre, dietro solo a Minecraft Storicamente la serie non è mai stata associata alle console Nintendo perché è ritenuta troppo matura e violenta per approdare senza problemi sulle piattaforme della casa di Mario Eppure come andremo a vedere la serie di Grand Theft Auto è apparsa ben 4 volte sulle console della grande N con titoli tanto ambiziosi quanto sconosciuti Prima di iniziare questa ricognizione storica, come al solito vi invito a supportare il canale come meglio credete Magari offrendomi un caffè virtuale su Ko-fi oppure seguendomi su tutti i miei social dove troverete approfondimenti e curiosità su tutti i video che pubblico qua su YouTube Iniziamo! I tentativi di portare GTA sull'hardware Nintendo iniziano con una delle console più impensabili di sempre, ovvero il Game by Color Come andremo a vedere infatti la particolarità di questo matrimonio più che improbabile è che tutti e quattro i giochi uscirono su console portatili Andando ad ignorare completamente gli hardware casalinghi Ora c'è da considerare però alcuni fattori fondamentali Prima di GTA 3, l'episodio apparso su PS2 che fece esplodere la popolarità dei lavori firmati Rockstar Grand Theft Auto era un gioco molto diverso da come lo conosciamo oggi Se l'episodio apparso sulla seconda ammiraglia di casa Sony presentava per la prima volta una città completamente renderizzata in tre dimensioni ed apriva le porte alla grafica poligonale I primi due episodi della serie adottavano un impianto di gioco ben diverso Erano infatti degli action in due dimensioni con visuale dall'alto Dei giochi che non puntavano assolutamente sulla potenza dell'impatto grafico Per questo un porting di un titolo del genere su Game Boy Color Per quanto si trattasse di un'impresa titanica non era di certo un compito impensabile A due anni dall'uscita della versione originale quindi GTA si affacciò sulla portatile Nintendo con una conversione ad opera di Tarantola Studio Il gioco presenta delle feature molto interessanti anche se il risultato finale è tutt'altro che riuscito La prima caratteristica impressionante è che gli sviluppatori sono riusciti ad inserire all'interno della cartuccia Game Boy tutte le mappe di gioco nella loro interezza Senza applicare alcun tipo di taglio o rinuncia La grafica è ovviamente molto più spartana rispetto alla controparte PC e PlayStation Così come la musica che risulta sostanzialmente inascoltabile Purtroppo uno dei grandi problemi del primo GTA ovvero la ristrettezza del campo visivo Viene amplificata dalle piccole dimensioni dello schermo del Game Boy Il che in teoria renderebbe ancora più confusionaria l'azione di gioco Dico in teoria perché il difetto principale della conversione è che le città sono sostanzialmente vuote E in più di un'occasione sarà facile ritrovarsi a piedi senza una macchina nei paraggi Né con pedoni a popolare marciapiedi Quindi se da una parte abbiamo un porting che a livello contenutistico non sacrifica nulla dell'esperienza originale Dall'altro c'è un gioco che chiaramente veniva limitato enormemente dalle capacità hardware del Game Boy Color Aggiungete dei controlli approssimativi e legnosi e un sistema di collisioni obsoleto E come risultato avrete la peggiore versione di GTA 1 disponibile sul mercato Tra l'altro in pieno stile Nintendo nel tentativo di risultare appetibili a un pubblico composto da utenti giovanissimi Furono rimosse dal gioco tutte le imprecazioni presenti nei filmati ed anche il sangue fu eliminato dal gameplay GTA 1 su Game Boy Color quindi è stato un esperimento estremamente affascinante Ma lontano dal poter essere definito divertente da giocare Situazione che si ripete più o meno invariata anche con il secondo episodio GTA 2 uscì a novembre del 2000 Sempre per Game Boy Color Questa volta però il titolo non era retrocompatibile con la versione originale della portatile Nintendo Questo perché il gioco sfruttava appieno le migliorie hardware della revisione a colori I miglioramenti sono tangibili e si notano soprattutto nella gestione degli NPC all'interno della città Le cui strade non risultano più deserte ma popolate sia da pedoni che da veicoli Come per il predecessore anche questa conversione riporta tutte le missioni e le zone della controparte console Così come le tre aree principali in cui è suddivisa Anywhere City La città dove si svolge il gioco Specifico del porting console è un sistema di password in sostituzione dei salvataggi Che permette di riprendere dall'ultima missione completata E anche la possibilità di scegliere tra un nutrito cast di personaggi Piuttosto che avere la scelta limitata al solo cloud La situazione però non varia molto da GTA 1 E nonostante le buone intenzioni del team di sviluppo E l'ottimo risultato di essere riusciti a comprimere un gioco così vasto all'interno di una cartuccia GTA 2 su Game Boy Color risulta ancora una versione troppo castrata rispetto a quanto visto su console fisse e PC Particolarmente problematico è il sistema di collisione tra veicoli Che porta spesso le vetture ad incastrarsi tra di loro E una distanza di visuale troppo ristretta per riuscire a interpretare l'azione in modo chiaro e preciso Soprattutto nelle situazioni più concitate Per il prossimo gioco della lista bisogna fare un salto in avanti di qualche anno E passare su Game Boy Advance Quando nel 2004 uscì GTA su GBA Il gioco non essendo un porting del terzo episodio perde la numerazione nel titolo Ma rimane comunque un episodio canonico della serie principale Presentandosi come prequel di GTA 3 Con cui condivide la stessa ambientazione di Liberty City E' interessante notare come questo Grand Theft Auto sia il primo capitolo della serie A non essere sviluppato direttamente da Rockstar Ma da Digital Eclipse Un team che aveva alle spalle una certa dimestichezza con gli hardware portatili Sicuramente non ci troviamo di fronte a un titolo rivoluzionario come GTA 3 Che con il passaggio alle tre dimensioni Rappresentò una transizione fondamentale all'interno del brand Ma anche di tutto il mercato Riscrivendo sostanzialmente le regole dell'open world e del free roaming Advance condivide l'impostazione di gameplay dei precedenti capitoli E graficamente raggiunge i livelli qualitativi di GTA 2 Introducendo parecchie novità Ad esempio le macchine non erano dei semplici sprite 2D Ma avevano una sorta di tridimensionalità Che gli conferiva anche una gestione particolare del modello di guida Ora molto più attento a variabili come il peso e la velocità della vettura È possibile infatti notare il lato del veicolo in seguito a delle manovre spericolate e repentini cambi di direzione Impatti particolarmente rovinosi possono portare al ribaltamento dei mezzi Ci sono tante feature che provano a scimmiottare quanto visto su GTA 3 Come l'aver associato un brano musicale diverso ad ogni veicolo O la presenza di un impianto narrativo che seppur nella sua banalità Tenta di ricreare la grandezza dell'epopea criminale messa in scena su PlayStation 2 GTA Advance rappresentò sicuramente un altro incredibile traguardo tecnico sulle portate di Nintendo E per la prima volta riusciva a trasmettere la sensazione di caos e violenza sfrenata Di cui la serie era ormai diventata portavoce Per quanto impressionante però Il risultato finale era ancora tremendamente castrato dalle limitazioni hardware del GBA E lo si notava soprattutto nei vistosi cali di framerate Se messo a confronto con Liberty City Stories uscito su PSP solo l'anno seguente L'impatto grafico del gioco ne esce pesantemente ridimensionato Aggiungiamo il fatto che uscì lo stesso giorno di GTA San Andreas Senza nessun tipo di campagna pubblicitaria a supporto Ed è facile capire perché ben pochi siano a conoscenza dell'esistenza di GTA Advance Uno dei pochi GTA che non fu capace di lasciare il segno nella memoria collettiva dei videogiocatori Dopo tre tentativi tutt'altro che Chelsea Bisognerà aspettare fino al 2009 per vedere arrivare su console Nintendo un GTA degno di questo nome Chinatown Wars sviluppato da Rockstar Leeds e Rockstar North È il primo GTA su console portatile Nintendo che riesce a catturare perfettamente il feeling della serie Distaccandosi di netto però da alcuni capisaldi dell'esperienza tipica di GTA Mentre su PSP con Liberty City e Vice City Stories l'intento era stato quello di riportare l'esperienza delle console fisse su hardware portatile Le limitazioni del DS costrinsero Rockstar a scegliere un approccio diametralmente opposto Cucendo su misura Chinatown Wars sulle peculiarità della console Nintendo Abbiamo quindi un gioco che seppur in 3D e con telecamera dinamica Ha un angolo di visuale tale da ricordare i GTA in due dimensioni e uno stile in cel shading che vira nettamente dall'artstyle realistico tipico della serie Il risultato è un gioco votato a un'impostazione più arcade e cartonesca che si riflette in un gameplay dinamico e immediato Ad esempio le missioni hanno una durata ridotta rispetto alla media della serie E il sistema di ricercato offre nuove possibilità di evasione dalle forze dell'ordine Oltre che fuggire dagli inseguimenti il giocatore potrà abbassare la pressione della polizia eliminando tante vetture quante sono le stelline ad indicare il livello di ricerca degli agenti Ma stupire particolarmente è l'approccio sperimentale ai comandi che presentavano un uso estensivo del touchscreen e del doppio schermo del DS Così come del microfono Era infatti possibile fischiare per richiamare l'attenzione dei taxi Questo è solo uno dei tanti esempi di come Rockstar adattò con creatività la sua formula vincente Portando su DS una rivisitazione della Liberty City di GTA 4 che piuttosto che emulare la sorella maggiore si proponeva come una valida alternativa Jonathan Wars purtroppo non ebbe il successo sperato Situazione che si ribaltò con la conversione per PSP Che però presentava alcune sostanziali differenze rispetto all'originale su DS Lo stile grafico in cel shading veniva abbandonato in favore di un art style più in linea con i canoni della serie Così come si perdevano gran parte delle divertenti interazioni col touchscreen Ora sostituite da dei ben più anonimi QTE Poracci questi erano tutti GTA apparsi su console Nintendo Spero che la retrospettiva vi sia piaciuta Se apprezzate questo genere di video potete supportare il canale in svariati modi Magari regalandomi un caffè virtuale su Ko-fi oppure seguendomi sui social Se avete messo like e vi siete iscritti al canale attivando la campanella delle portifiche Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video Io sono il Poro GTA, Michele Portatile, ciao!